Signori bentornati in un nuovo video flash. L'Orkana è arrivato su Car Market e la sua apparizione sulla piattaforma di scambio a tema TCG più famosa al mondo comporterà due fattori. Il primo, una reperibilità delle carte maggiore rispetto a quanto è successo con One Piece che è arrivato su KM relativamente in ritardo, quasi a ridosso del secondo set, mentre per il GCC targato Disney all'uscita esatta. Oggi è stato reso pubblico agli appassionati, oggi è stato reso disponibile per il mercato secondario. Ciò però sarà un bene o un male? Un bene! Ed anche un male, ovviamente. Perché? Rispettivamente i prodotti saranno reperibili attraverso venditori terzi, e questo sarà bene, ma ho visto i prezzi. Ma se vorrete comunque collezionare per tenere i shield, un piccolo investimento, anche se fuori prezzo, vi consiglio comunque di farlo. Ma dovrà rimanere tutto chiuso sigillato per quel che i packaging permetterà di fare, magari avendo anche all'arrivo dei pacchi una teca pronta all'uso. Mentre il secondo punto è che i prezzi delle carte singole fortunatamente stanno calando. Ad esempio Topolino Sarto, che prima si aggirava attorno ai 30-35 euro, ora si attesta sui 20, mentre Campanellino Fatina Gigante, che si trovava sui 25, ora è possibile reperirla anche ad 11 euro. Una notizia che fornisce comunque un supporto davvero fondamentale per tutti coloro che vorranno affacciarsi alle dinamiche di questo TCG. E voi acquisterete dal mercato delle carte come giocatori o collezionisti? Come sempre fatemelo sapere nei commenti, inoltre iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.